Nell'auto sulla quale viaggiavano avevano ancora i guanti da lavoro, ma non solo, erano anche colmi di contanti monili e antiche monete d'argento. Avevano infatti appena messo a segno due colpi nell'aretino quando sono stati fermati dalla polizia stradale. Per questo due ventenni di origine slava sono stati denunciati per ricettazione. E' successo lo scorso fine settimana quando una pattuglia della sottosezione di Battifolle ha intercettato lungo l'autostrada del Sole un Audi con targa italiana nella quale viaggiavano due ragazzi residenti in Toscana. Erano diretti verso il nord Italia, gli agenti però insospettiti dai loro precedenti e dalle contraddizioni nelle quali erano caduti hanno deciso di approfondire gli accertamenti invitandoli a seguirli negli uffici. Così, da un'accurata perquisizione del mezzo, sono saltati fuori tre guanti da lavoro all'interno dei quali era nascosto un vero tesoretto. 4.200 euro in banconote di vario taglio, monili in oro di differenti tipologie e monete antiche d'argento. Immediato l'avvio delle indagini che nel giro di appena un'ora ha permesso di accertare che quanto ritrovato era il bottino di due furti in abitazione avvenuti a Bibiena poco prima. Grande la sorpresa dei proprietari delle case visitate dai ladri quando sono stati avvertiti del ritrovamento dei preziosi. Avevano infatti appena denunciato il furto.